La ghilata la mettiamo sul cammino e ce ne mettiamo l'angiorino sopra Giulia mi scappando alle mani le palle Pallina blu Ma mamma, dov'è la pallina blu? Non si metti il blu Ogni anno si racconta la stessa storia della pallina blu Ti guardi anche l'anno scorso Questa è pistola le palline Ora vado a prendere una. No, guarda dove ho messo il calendario dell'avvento. Aspetta Kri, apriamo un minuto questa casellina, accendi la luce. Il 3 l'ha mangiata la mamma. Dai! Il 3 l'ha mangiata la mamma. Dai! Hai finta di aprirlo? Sì, non c'è niente. Ma perché lo c'è il 3? Per forza. Non poteva essere il 4. Eh, l'altro è il 4 e non lo mangio. Guarda, non si mette in camera mia questa. Sui canini. Guarda, è bellino un monte. Ma un monte, eh? Non un cimonte. Praticamente tutti gli anni. Cristia voleva le palline blu. E la mamma gliele faceva mettere dietro l'albero. Allora, perché cosa si fa se è colorato? Cazzo, chissà come è colorato. E poi tenendo la finestra aperta ovviamente le palline blu si vedevano. Un anno e basta. La tenda. Eh, quando avevo lo spiegato. Ma questo si mette nel camino? Sì, ma la tenda è giura a Ghirlanda. Ovviamente abbiamo fatto anche un secondo alberello. Guardate bellino, piccino. Ma non è lì, la Ghirlanda è saccina. Ghirlanda? È una ragazza molto luminosa. Sì? Bra. Ghirlanda? È una ragazza molto luminosa. Signore tesù. Cristian. Tu riempi di gioia, mio cuore. Guarda quanta roba. Guarda belle. L'angioletto. Sto angioletto lo vedo male. Ma questo non deve essere così almeno. No, è questo, ma non ti è stato in giù, c'era. Ma io ho un violinista. No, ma l'avete rotto un dito. Non ha detto che mi abbia... No, ma mettilo qua la rosa. Ci sono vent'anni che si è rotto, le vecchie. Povera angioletta. Guarda. No, lì non si dita. Guarda, figa. Non si mette... Guarda, figa. C'ha pure la rosa incorporata. Sulla rona se lo trovi. Trova la rona, va, le sue panaggine. Cristian, hai manila rosa, poverino. No, 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 è bellino. Beh, è più bello col buco, guarda. E lì erai... Lo vedi che lei questo è il mandolino e si è rotto, purtroppo. Mandarino. E' caduto quando l'abbiamo di spatola, l'albero. Eravate piccoli. E gli si è rotto solo in dito. No, mandarino, mandolino. Mandolino. Guarda. È un brumacello così qui, eh. Allora, ramo, velo di moda. Sono belle. Aspetta, vediamo con le luci spente. Bellino. Bellino. Andiamo a fare compere, andiamo a fare compere. Oggi guido io. Uh, sto per cascare. Oggi guida la Giulia. Andrea, sei contento? No, ho freddo. Cambio di programma. Si va con la macchina di Andrea perché la mia è riserva e non ho voglia di mettere benzina. E si usa la mia benzina, i miei soldi, eh, scroccona. Sempre, tutti i giorni. Grazie. Entriamo nella scasoletta di Andrea. Devo caricare il telefono perché è scaricato. Non metti di farla così, grazie. Perché ti dà noia solo una canzoncina. I mammi danno una gru. Ora andiamo a fare un po' di giri perché ci servono più palle per l'albero. Freddo! Scrivi, ma perché devi farla sopra? Mi piace più ascoltare, Andrea. Oh. Scrivi messaggio Whatsapp a famiglia. Cosa vuoi scrivere? Mi sa che rimango a cena dalla Giulia. Vuoi inviarlo? Sì. Sono qui. Ma perché capisce Siri invece che sì, sì? Cioè, guardatevi in Mila. Ti piace? Sì, sì, è bellina. Molto bellina. Più bellina con la rossa. Molto più bellina la rossa. Guarda Gans. Cioè, raga. No, vada a casa. In più ce l'arrivo a casa tutto con l'acqua. È un po' di cazzo. Un po' di cazzo. Occhio. Ma perché? Ma perché? Musica Sì, guarda Ci sono le lucine qui Guarda Molto bellino Con un whisky Guarda che c'è qui Ciao Noi abbiamo mangiato Tra poco andremo a studiare Ci sono le mani di ghiacci Giulia Poi domani devo andare Del dentista Quindi non vado nemmeno a scuola Buonanotte Andiamo ad aprire La casellina del 4 Questo qua in teoria è del mio fratello Perché glielo ho regalato a lui Però Glielo frego io Va bene? Quasi Le invenzioni mie di Cristia Nell'ultimo minuto La fase più addobbata di questa Tutto molto natalizio Ragazzi io scappo del dentista Incrociamo le dita E ci vediamo dopo Allora praticamente Tutta questa parte Addormentata E È stranissimo E niente Questa cosa del dentista Diciamo che Non ci voleva Adesso Volevo registrare il video Dove vi mostro tutte le cose Mi sono arrivate di Mulac Però registrarlo così Non mi piace assolutamente Voglio farlo a modo E quindi insomma Speriamo che vada tutto per il meglio Perché il dentista Io lo odio Mi metto sulla poltrona E inizio a tremare Letteralmente perché Mi da annoia tutto Non la gente che ci lavora lì Perché sono tutti Stra carinissimi Però ho proprio L'idea di essere Dal dentista Adesso Inizio a Elisare E noi ci vediamo Dopo Whisky Andabbiati Andiamo a casa Andiamo a casa Andiamo a casa Andiamo a casa Che ti fa? Andiamo a casa Che ti fa? Ti fa Whisky ti volevo fare Solamente una foto Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? No Ehi Cosa fai? Cosa fai? Mio Mio Mamma mia Anna Figlio Vai Giola la pallina Vai 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 Guarda 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 Che c'ho io Che mangi? un costrino allora quello tenero tenero per la sdentatella della Giulia non so sdentata è quasi e io squattrino se no ci metto whisky ora sulla gratella non ci mettiamo te ora sulla gratella tieni whisky ti dà una patatina vieni buona? oh rispondi è un po' di shit che lo vediamo anche da noi se facciamo una cosa comunque mi è passata l'effetto dell'anestesia vai whisky combatti per noi da quando al prossimo viaggio? appena finisce sono quasi le 10 io vi do già la buonanotte perché vado giù a vedere i GF che è l'ultima puntata noi ci vediamo domani pomeriggio perché la mattina sono a scuola ciao ragazzi oggi è martedì 5 dicembre voglio registrare i vlogmas anche oggi pomeriggio è un'oretta che sono tornata da scuola ho mangiato e adesso vado ma andiamo perché venite anche voi a casa di Andrea perché l'aiuto a fare l'albero di Natale dopodiché andiamo dalla mamma a farci i capelli che fai? no devi dire la tua scoperta che con gli occhiali vedo lontanissima perché vedi meglio? perché vedo meglio è intelligente mi sembra il lino gli occhiali primo piano dai andiamo si va non fa l'albero jingle band jingle band jingle jingle band man out of the way questo è l'alberino spoglio vuoto è l'albero Albero finito Albero finito Albero finito Domani ho sia scuola che stage Raggrupperò questi tre giorni Per metterli in un unico vlogmas Se questo vlog vi è piaciuto Lasciate un like E iscrivetevi al canale Io vi mando un grossissimo bacio E noi ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti